Spillo è un maschietto di due anni, sterilizzato, peserà 5 kg e lui praticamente girovagava nelle campagne qui del veneziano e è stato recuperato. Probabilmente era tanto che girovagava perché l'abbiamo trovato magro e diciamo denutrito. Ama tantissimo i bambini, se vi piace è disponibile per chi lo vuole portare a casa e donargli tanto tanto amore. Ma non è un amore Spillo, cosa vi avevo detto? Ma avete visto che musetto? E poi è molto simpatico, giocoso, io credo che porterà a casa vostra una grande allegria. E tu stai giocando con la mia collana, ti piace? Beh io credo che Spillo sia adatto a una famiglia con bambini, a una famiglia con anziani, sia un cagnolino che vada bene anche se avete altri animali in casa. Per esempio se avete dei micetti lui sicuramente andrà molto d'accordo. Quindi amici il numero di telefono per adottare Spillino 320 03 80 318 oppure come sempre potete scrivere a portamiacasa chiocciola dalla parte degli animali punto it.